Buongiorno ragazze vi faccio questo velocissimo svuoto la spesa della Lidl che avevo già postato in un mio scorso video che da oggi se non erro 21 novembre iniziavano queste magiche offerte di abbigliamento casalinghi accessori tema natalizio allora partiamo subito maglioncino per Giorgia i classici maglioncini di ogni anno della Luppi Lu fantastici ragazze questi li potete lavare in lavatrice e anche asciugarli in asciugatrice provare per credere perché l'anno scorso scusate la sirena ma qui passano sempre le ambulanze l'anno scorso l'ho preso col pan di zenzero e vi posso garantire che non si rompe il meccanismo e il maglione rimane integro questo addirittura dovrebbe suonare il naso e illuminarsi non so se lo sentirete ma facciamo la prova in diretta poi sempre per Giorgia c'erano gli accessori per i capelli troppo bellini questo elastico con i nastrini tipo pacchetto di pacchetto regalo e poi gli abberelli li ho presi perché a natale glieli metto sempre dei fermaglietti così a tema natalizio però mi potrebbero servire anche per la famosa recita di natale all'asilo poi quest'anno ho convinto mio marito perché non ama tanto queste cose però quest'anno l'ho convinto e gli ho preso il pigiama a lui questo qui con Babbo Natale in testa in giù taglia M che corrisponde a 48-50 e la particolarità hanno i pantaloni da uomo sia con la culis ai piedi che le tasche poi me lo sono preso anch'io il pigiama rigorosamente con i pupazzetti e ho preso una L perché era la taglia più grande che c'era quindi ho visto che sono molto abbondanti c'erano alcune confezioni aperte quindi credo che vada bene poi per mia figlia Laura aveva scelto questo maxipullo tipo vestitino da poter mettere sotto con un leggings con questa fantasia con la renna taglia esse da donna poi sempre per Giorgia ho preso questi calzini antiscivola con i pan di zenzero e poi per finire c'erano in offerta questi strofinacci di varie fantasie oltre con il pupazzetto pan di zenzero c'era Babbo Natale con l'unio verde e con il rosso le renne però io amo il pan di zenzero forse non si è capito vi dico un po' i prezzi alla mano praticamente il vestitino a donna è venuto 12,99 le calzine termiche 2,99 gli accessori per capelli 3,98 però due pezzi erano poi ci sono il pullover veniva 8,99 gli strofinacci 2,99 il pigiama da donna e da uomo 15 euro venivano quindi per oggi ho svaliggiato la Lidl ma sono andata prestissimo ragazze c'era una confusione immensa tutti vicino a queste cose ho lasciato le bambine alle 8,5, 8,10 a scuola e sono corsa con una mia amica che anche lei doveva acquistare un maglione per il figlio c'erano anche da uomo i maglioni da donna e quindi c'era un sacco di gente e stavano già andando a ruba a quell'ora niente, spero che questo video vi sia piaciuto vi faccio vedere lo sfondo del mio albero di Natale e vi saluto un bacio a tutte e grazie per i nuovi iscritti